ragazzi bentornati e bentornati sul mio canale io sono magnus arrivano notizie ufficiali per ciò che riguarda aggiornamenti e riassortimenti della nuova console next gen sony ps5 naturalmente soltanto sony ps5 naturalmente quando state un video come stiamo vedendo un bel commento un bel mi piace notizie ufficiali perché diciamoci la verità ultimamente ufficiale non c'è praticamente quasi niente però si sta muovendo qualcosa in che senso ufficiale già partendo dal presupposto che parliamo del profilo ufficiale twitter di game stop dove in pratica hanno annunciato che dalla prossima settimana inizieranno a spedire le console che sono state acquistate naturalmente in ordine di prenotazione e naturalmente soltanto quelle per adesso con dicitura di 3 il che cosa significa significa vuol dire che se le stanno ridistribuendo vuol dire che hanno ricevuto un riassortimento il che mi fa pensare che riassortimento non è che lo faranno soltanto per game stop vuol dire che ne stanno veramente arrivando quindi vuol dire che molto probabilmente man mano che andremo avanti faranno altre comunicazioni anche altri store tenete presente che è normale che da game stop ci si può aspettare magari una maggiore efficienza dal punto di vista social mentre invece da altri store tipo un euro e media world è più difficile che ci possano essere dei comunicati del genere sui loro profili per cui come sempre vi consiglio sempre di tenere appizzate le orecchie non soltanto da attraverso dei miei video o naturalmente anche dei comunicati che vi faccio velocemente nella community di youtube e di seguire anche nell'altro video che vi avevo fatto vedere quel link che vi dà la possibilità di poter seguire in maniera costante e in maniera aggiornata se ci sono dei nuovi riassortimenti è importante perché diciamocela tutta ultimamente notizie ufficiali non ce n'erano proprio e come vi dico sempre è strano è veramente strano mi rendo conto che ci troviamo in un periodo in un anno abbastanza particolare a causa della pandemia però è strano che non ce ne siano completamente niente mi fa molto piacere perché ultimamente game stop sto vedendo che sta acquistando tantissimi punti soprattutto perché è ritornato diciamo di moda il gioco non più in digitale ma quello fisico personalmente io adoro scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate soprattutto come avete fatto anche l'altro video precedente se riuscite ad avere dove dove lo acquistate fondamentalmente perché se dite dove acquistate la console magari date la possibilità a qualcun altro di poter acquistarla perché come sapete benissimo in queste situazioni il tempo è fondamentale perché bastano pure 10 minuti 5 minuti 7 minuti basta che capiate nel momento giusto e la beccate e vi ricordo sempre cosa molto importante questa è una cosa che vi ho detto anche nell'altro video su amazon c'è la particolarità che se prendete qualcosa la mettete nel carrello in un certo senso la bloccate non so se funziona anche negli altri store ma su amazon la bloccate per un tot periodo di tempo quindi non perdete tempo a decidere la prende o non la prende la prende o non la prende mettete la prima nel carrello poi magari ci pensate andato nel carrello non è che lo acquistate poi magari ci pensate se la acquistate bene ma se no non fa niente e la cestinate e date la fortuna magari a qualcun altro di poterla acquistare ci vediamo nel prossimo video vai ciao ciao